Lavoro l'appello del Vescovo, Gianfranco De Lugga, capo della diocesi di Termoli Alarino, esorta i giovani in crisi per il lavoro, non cercate raccomandazioni o protettori, seguite la strada della giustizia e dell'onestà. Area di crisi, privilegiare i progetti, la richiesta di assi industrie al vice ministro dell'economia Zanetti, NOA e finanziamenti appoggia per i comuni, ha detto il presidente degli industriali del Molise, Mauro Natale. NOA al Tullell in città, continua a Termoli la mobilitazione del comitato pro-referendum, sarà avviata una petizione popolare per chiedere lo stop dell'aggiudicazione dei lavori. Una piazza per la guardia costiera, l'intitolazione a Montenero di Bisaccia, un riconoscimento per l'impegno della Capitaneria di Porto. Edizione della domenica del nostro telegiornale, ben trovati il Molise, la disoccupazione aumenta, i giovani smettono di sperare e cercare l'occupazione, a loro si rivolge il vescovo di Termoli Larino Gianfranco De Luca, non andate in cerca di raccomandazioni e protettori, ma seguite la strada della giustizia e dell'onestà. Sentiamo Marta Martino. In questa regione, il Molise, dove la disoccupazione tocca livelli molto alti, il polso della situazione lo danno i giovani, che non credono più nel futuro o hanno smesso di crederci. Non ci sono più analfabeti in Molise, ormai una larga fetta di popolazione, probabilmente la maggioranza, ha in tasca il diploma di scuola superiore o una laurea. Molti hanno anche master e specializzazioni, in tanti hanno sperimentato anche esperienze all'estero. Eppure, nonostante le basi solide del loro sapere, i giovani di questa terra si lasciano tentare dall'idea che le strade per farcele nella vita sono essenzialmente due, andare via dal Molise o restare e cercare un santo protettore. Ma non nell'alto decelio o nelle chiese, ma nelle stanze dei palazzi che contano, quelli davanti ai quali a giorni alterni va in scena la disperazione di chi il lavoro non ce l'ha o l'ha perso. Quello che manca ai giovani molisani, o che non hanno più, è la speranza, e non solo nel loro futuro, ma nelle loro capacità. Un'attitudine che intrestisce famiglie intere, ma quanto pare non il mondo della politica, che dorme beata su due guanciali. E allora, a molti sembra che il rimedio all'indifferenza sia andare in cerca della famosa raccomandazione, darsi al clientelismo politico e trovarsi qualche amicizia importante. Dati che hanno stimolato una riflessione, che il vescovo della diocesi Termoli Larino, Gianfranco De Luca, ha voluto rendere pubblica. In questo panorama triste e deludente persiste la convinzione che per accedere al mondo del lavoro bisogna pagare pedaggio per avere in cambio la garanzia di quello che sarebbe un diritto di nascita. Senza un protettore, commenta Maro De Luca, sembra che i curriculum siano solo carta straccia, e i giovani trovano sul loro cammino muri e opposizioni. E allora tanto vale provare altre strade, trasferirsi in altre realtà e addirittura espatriare, lasciando dietro le spalle una regione che, continuando così, sarà abitata solo da vecchi e a stento potrà mantenere la sua autonomia. Il vescovo De Luca fa suo il pensiero di Papa Francesco e si rivolge ai giovani esortandoli a perseguire sempre la via della giustizia, evitando le scorciatoie delle raccomandazioni e dei favoritismi, deviazioni pericolose di disonestà e facili compromessi. Cambiamo argomento, non c'è alcun rischio di finanziamenti a pioggia. Con l'area di crisi saranno premiati non i comuni, ma i progetti migliori. Quanto è emerso da un incontro a Disernia con il viceministro dell'economia Zanetti, l'appello è la esortazione del presidente di Assindustria, Molise, Natale. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. L'estensione ad altri comuni dei benefici previsti dall'area di crisi non è un problema. Non si corre il rischio dei soliti finanziamenti a pioggia. Ciò che realmente conta è la validità dei progetti che vengono presentati. Ne è convinto il presidente dell'Assindustria Molise, Mauro Natale, intervenuto all'incontro con il viceministro dell'economia Enrico Zanetti, organizzato a Esernia proprio per parlare di prospettive e opportunità di rilancio per il Molise. Il ministero non dà soldi alle aree o ai comuni, le dà a progetti di investimento sul territorio. Quindi sicuramente non è a pioggia. Bisogna avere manifestazioni di interesse di aziende che vogliono venire o che vogliono ampliare i loro plessi produttivi in questo momento perché il ministero dia e valuti gli interventi da fare. Il ministero è stato molto chiaro, gli aiuti verranno dati solamente alle aziende e alle imprese, non al territorio. Gli interventi previsti per l'area di crisi rappresentano una straordinaria occasione per il rilancio del territorio, ma a patto che autorità locali e imprenditori non perdano altro tempo e che presentino progetti validi e innovativi, è il parere dell'economista Lucio Di Gaetano. È uno strumento molto importante che può far affluire risorse fondamentali per la ripartenza dell'area industriale di Serni e di Benafropozzilli. È fondamentale che le autorità locali e che gli imprenditori locali siano concentrati sull'obiettivo, siano veloci e siano pronti a produrre progetti che valga la pena finanziare perché il mondo è cambiato, non siamo più negli anni 80, non siamo più negli anni 90, quindi i soldi non arriveranno a pioggia per quanto la mappatura dei comuni possa essere stata più larga delle aspettative. Per cui ci vorranno progetti di alto livello, di buona qualità che verranno valutati con molta molta attenzione. Per la cronaca adesso c'è stato un incidente stradale in mattinata sulla statale 87 Sannitica, vedete le immagini a pochi chilometri da Campobasso nei pressi di Vinchiaturo, due auto, due Fiat Punto si sono scontrate per cause che i carabinieri che sono intervenuti per disciplinare il traffico e per i rilievi dovranno accertare il bilancio di tre persone ferite, sono state trasportate all'ospedale Cardarelli dal personale del 118. Sul luogo dove è avvenuto lo scontro anche i vigili del fuoco di Campobasso, il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e di pulizia della carreggiata a seguito dell'incidente. Infatti sull'asfalto sono rimasti detriti e macchie di olio. E resta in carcere il giovane Somalo, ospite di un centro di accoglienza di Campomarino Lido ed accusato di isticazione al terrorismo. Nei prossimi giorni l'avvocato difensore Antonio Di Renzo valuterà se presentare l'istanza di remissione libertà al Tribunale per il reesame di Campobasso. Voglio acquisire tutti gli atti del fascicolo prima di chiedere la revoca della misura cautelare, ha fermato il legale del richiedente asilo. E cambiamo argomento, sono oltre sette mesi che al Comune di Termoli sono state depositate le firme per il referendum contro la realizzazione del tunnel in città. Ora i comitati hanno deciso di avviare una petizione popolare. Sentiamo Manuela Iorio. Il tempo passa e il comitato che ha chiesto un referendum per capire se davvero i cittadini vogliono la costruzione del tunnel che dal porto passerà sotto al borgo e sbucherà sul lungomare nord ha deciso di mettere in campo un nuovo strumento per accelerare l'iter e cioè una petizione popolare che ha già avuto un discreto successo. Il comitato ogni sabato e domenica è in piazza per raccogliere quante più firme possibili anche se il quorum è stato già raggiunto. Per firmare bisogna avere con sé un documento ed essere residenti a Termoli. Un iter quello di indizione del referendum che in questi mesi ha trovato diversi ostacoli anche a causa dei continui rinvii da parte del Consiglio Comunale per la Costituzione della Commissione Elettorale che è stata finalmente eletta nell'ultima assise ma che fino ad ora non è stata mai convocata ed è trascorso quasi un mese. Intanto il tempo passa e le procedure per aggiudicare i lavori vanno invece avanti spedite. Il comitato Termoli decide ormai da oltre sette mesi che chiede l'indizione di un referendum cittadino. Purtroppo l'amministrazione ha alzato un muro su questo tema. Infatti l'iter è praticamente fermo da sempre. Non riusciamo ad avere un dibattito con gli amministratori neanche in sede di Consiglio come è avvenuto nell'ultima seduta. Per questo abbiamo deciso di alzare il volume della nostra voce e mettiamo in campo un nuovo strumento di partecipazione che è quello della petizione popolare attraverso il quale i cittadini termolesi potranno aderire alla nostra richiesta di sospensione dell'iter del procedimento di approvazione del progetto del tunnel. Quindi chiediamo che l'iter sia congelato fino all'indizione del referendum che si ascolti qual è la volontà dei cittadini termolesi in merito e si proceda di conseguenza. Giulio Botteri ha parlato di una stagnazione politica intorno al referendum accusando l'amministrazione di rimanere in silenzio di non accettare i confronti pubblici e di ostacolare il processo democratico un fatto gravissimo secondo i comitati. La peggiore amministrazione mai avuta è stata invece il commento di Antonietta Siviero. Intanto sulla questione del raddoppio del tratto ferroviario Termoli-Lesina su cui il comitato per il referendum partecipa a Termoli ha promosso una consultazione popolare c'è stato un incontro fra esponenti del comitato e l'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nanni. L'esponente del governo regionale ha ribadito che la regione ha chiesto modifiche al progetto dell'opera per diminuire l'impatto sul territorio nel caso in cui le prescrizioni richieste non dovessero essere accolte la regione rimarrà contraria alla realizzazione dell'opera e attuerà forme di protesta. Questo ha dichiarato Nanni. E cambiamo argomento nell'ambito della settimana rosa digitale alla sede di pesca dell'Università del Molise si è parlato del rapporto fra donne ed informatica. Sergio Di Vincenzo. L'informatica è un lavoro per uomini? Assolutamente no. Anzi, negli ultimi anni sta aumentando il numero delle donne che intraprendono una professione legata alle nuove tecnologie. Certo, c'è ancora un gap da colmare visto che spesso appaiono escluse dai vertici delle aziende del settore ma il cosiddetto gentil sesso ha sempre avuto e continua ad avere un ruolo determinante nel progresso dell'informatica ed è proprio questo il messaggio lanciato dall'Università del Molise durante la settimana rosa digitale un'occasione per sfatare una serie di luoghi comuni. Nel mondo dell'informatica le donne ci sono state fin dagli alburi di questa disciplina però molto spesso sono state dimenticate. Non è passato molto tempo da quando è venuta fuori che la prima programmatrice, quando ancora non esistevano i calcolatori è una donna, è Ada Byron. Quindi questa iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la figura femminile nel mondo dell'informatica. Il corso di studio di informatica dell'Ateneo Morisano ha inteso valorizzare il ruolo della donna in questo settore promuovendo una giornata di divulgazione scientifica coinvolgendo le studentesse di questo corso di studio. Abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso perché abbiamo voluto dare alle nostre studentesse un ruolo di protagoniste. Nello specifico per avvicinare le persone nel particolare le donne al mondo dell'informatica quale strumento migliore se non farle trasmettere quello che significa fare informatica alle donne stesse. Quindi le nostre studentesse oggi hanno vestito i ruoli di docenti e hanno erogato tre mini tutorial di introduzione all'informatica applicazione dell'informatica nel mondo della musica con conciliazione di una personale passione da parte di una nostra studentessa sul violino e poi una nostra laureata che è adesso studentessa del corso di Management Information Technology all'Università di Salerno che è venuta e ritornata qui nella sua università da cui ha iniziato la carriera accademica per presentare quelle che sono le difficoltà di sviluppo di un'applicazione software di grosse dimensioni. Un premio della Microsoft per il Liceo Artistico Manzù di Campobasso tra i finalisti di Meet No Meet un'iniziativa che ha coinvolto più di 30 scuole italiane la classe Quinta B è stata selezionata tra i cinque team finalisti della competizione con una app per dispositivi mobili che punta a valorizzare i cosiddetti beni invisibili del Molise partner dell'iniziativa è stato il Polo Museale del Molise parliamo adesso di una piazza dedicata alla Guardia Costiera come riconoscimento dell'impegno della Capitaneria di Porto ce ne parla Fabrizio Chionero Un punto di riferimento per la sicurezza in mare per tutti gli operatori presenti lungo la costa la Capitaneria di Porto conferma l'impegno sull'intero territorio anche in vista della prossima stagione turistica per rinnovare la sinergia tra le istituzioni le attività e un presidio così importante il Comune di Montenero di Bisaccia ha voluto dedicare una piazza della Marina Costa Verde alla Guardia Costiera l'area si trova proprio al ridosso della passeggiata ed è stata individuata con una delibera di giunta per esprimere la viva gratitudine ai servizi resi dalla Capitaneria alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità tra le quali il Vice Presidente della Regione Vittorino Facciolla il Presidente della Provincia di Campobasso Rosario De Matteis il responsabile della Direzione Marittima di Pescara Enrico Moretti e il Comandante della sede di Termoli Antonio Nasti al centro del piazzale è stata collocata un'opera che rappresenta un'ancora donata dalle famiglie Iacovitti e Marchesani della Gocce di Mare per il Sindaco Nicola Travaglini si tratta di un gesto significativo che si inserisce in un progetto di sviluppo della Marina di Montenero di Bisaccia Noi vogliamo che questo sviluppo sia rispettoso delle regole di tutte quelle regole che ci garantiscono il rispetto del territorio una crescita sana tanto poi da avere un'offerta interessante da proporre al turista con la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto c'è sempre stata una collaborazione molto stretta e io sono convinto che per esserci questa crescita positiva questa collaborazione deve rimanere anzi deve aumentare pertanto vuole essere un gesto di riconoscimento per quello che hanno fatto per quello che fanno e indubbiamente per quello che faranno Una piazza alla Guardia Costiera è l'evidente testimonianza degli stretti legami esistenti fra la città di Montenero e la Capitaneria di Porto di Termoli questo è un fatto molto importante che ci inorgoglisce perché se il corpo oggi riceve questa intitolazione evidentemente non è per merito mio ma per il merito delle donne e degli uomini che per 150 anni hanno servito gli interessi marittimi dello Stato ed in particolare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare sacrificando talvolta anche la loro stessa vita ed è tutto per questa edizione della domenica del nostro telegiornale grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telemulisi arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti